Non abbiamo che cinque pani. La frase è contenuta nel Vangelo di Matteo e introduce a uno dei miracoli più conosciuti di Gesù Cristo, la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Rapportata ai tempi di oggi, la frase può rappresentare un momento di grande speranza, ma anche di grande preoccupazione. E' questa una delle tematiche che la Chiesa attuale, chiamata a sviluppare, e il cammino verso il convegno nazionale della Chiesa, che si svolgerà a Firenze, è iniziato a Montesilvano, dove le diocesi abruzzese e molisane hanno tracciato le linee guida con la presenza del presidente della CEI, il cardinale Angelo Bagnasco. Tutti dobbiamo contribuire perché si possa superare questo momento di crisi così lunga e così pesante, soprattutto mettendo al primo posto quello che è il problema del lavoro e dell'occupazione, perché questo è il problema, come abbiamo detto tante volte, più urgente di tutti. La missione dei Vescovi in questo momento quale deve essere? Di vicinanza alla gente che soffre molto, troppo e da lungo tempo, specialmente le famiglie, i giovani e le persone che hanno perso il lavoro, magari avendo già famiglia da mantenere e impegni da onorare. Quindi una vicinanza umana, cristiana, sacerdotale, che aiuti la gente a non perdere la speranza, a reagire positivamente, con fiducia e con molta forza. Lo stesso Bagnasco ha poi tracciato la strada che bisogna seguire e che si può sintetizzare in cinque parole. Uscire, annunciare, abitare, educare e trasfigurare. Sono pronte le comunità a raccogliere questo invito? Vogliamo riflettere, vogliamo trovare la strada perché in Gesù Cristo l'uomo possa essere valorizzato, possa essere promosso in tutte le situazioni. Voleva essere proprio il mettere a servizio del Signore le nostre poche cose che abbiamo, perché fondamentalmente questo convegno per le chiese di Abruzzo e Molise ci preparano alla riflessione di Firenze.